Bene gente benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi ci troviamo davanti ad una novità davvero importante Perché Mojang ha lasciato sul canale ufficiale di Minecraft di Youtube Un video relativo ai mob che verranno annunciati ufficialmente al Minecon del 3 ottobre Abbiamo già i mob, li conosciamo già, sono vecchie conoscenze E' incredibile, ora ragazzi vi farò vedere il trailer E' questo qui il trailer sostanzialmente dedicato al mob vote di questo aggiornamento del Minecon Signori, che ci sarà in live il 3 ottobre sul canale del sito Viola del Multicore Network Ci sarò anche io a parlare ovviamente durante l'evento E nulla, sono molto gasato dall'idea Noi signori dovremo scegliere quali di questi tre mob verrà aggiunto effettivamente in Minecraft Una responsabilità molto importante per noi come abbiamo fatto la scorsa volta con il Phantom Avete sentito bene signori, sono tre mob Abbiamo l'Iseologer, un mob di Minecraft Dungeon Come vi ho detto vecchie conoscenze e ne parleremo più tardi di cosa effettivamente fa Vedendo anche una rappresentazione Poi abbiamo la Glow Squid, una squid ragazzi quindi un mob diverso Da come può essere un Iseologer cattivo Paragonato quindi a scheletri zombie mob di questo tipo Anzi in particolare lui è una categoria di illager signori In mentre invece la Glow Squid è una squid luminosa Quella che avevamo visto ovviamente anche lei se vi ricordate bene nel trailer del Minecon Assieme però anche alla Mobloom Una mucca molto interessante appartenente alla categoria di Minecraft Earth Come non ho detto la Glow Squid Avrà una funzione molto particolare che vi spiegherò fra pochissimo Questi sono i mob che avremo la possibilità di scegliere all'interno della live del Minecon Earth del 2020 Abbiamo come vi ho detto andiamo per ordine l'Iseologer Un mob come vi ho già detto di Minecraft Dungeon Che all'interno del gioco vedendo anche queste clip Ci tenderà a lanciare degli accumuli di ghiaccio sopra la testa Una sorta di nuvoletta di ghiaccio che ci segue Diciamo in modo fisso senza perdersi E cadrà sulla nostra testa Andandoci a stordire nel caso peggiore E poi a rallentare per qualche secondo In particolare 5 secondi Diciamo all'interno del gioco Questo ovviamente è in Minecraft Dungeon Tutto dovrà essere associato a quello che vedremo All'interno poi di Minecraft Java Edition Bedrock Edition Insomma a Minecraft come l'abbiamo sempre conosciuto Inoltre ragazzi è importante riconoscere che questo mob È molto legato sicuramente al tema del Mountain Update Essendo un mob concedetemi il termine alpino Secondo caso abbiamo il mob meno interessante Le Glow Squid Le Glow Squid sono un mob di Minecraft Earth Minecraft Earth purtroppo è un ramo di Minecraft sostanzialmente che non conosco Quindi non vi so dire benissimo perfettamente che cosa e che funzioni ha Da quanto ho letto però essendomi informato prima di fare questo video ragazzi Ho visto che è un mob relativamente raro all'interno del mare Che vive più che altro in profondità E l'unica differenza che ha da una squid Perché effettivamente non ha proprio differenza in Minecraft Earth È legata alle sue particelle luminose Che lo rendono molto interessante e visibile all'interno del mare Molto carino la mettere magari in un acquario Ma tutto qui non ha funzioni particolari È una sorta di squid abissuale Come l'avevo definita io quando abbiamo fatto la reaction al trailer Tutto qui Questo ragazzi è quanto Non c'è assolutamente altro da dire riguardo alla Glow Squid Questo è quello che c'è perlomeno nel sito di Minecraft Earth Adattandola a Minecraft non saprei dirvi nulla Come purtroppo non so dirvi molto di più sulla Mobloom Un mob molto simile alla mucca fungosa E ovviamente il modello è quella della mucca di Minecraft Con però come abbiamo visto nel trailer Dei fiori sopra diciamo la sua testa E sopra al suo corpo Questo mob però è molto particolare Perché ci permetterà di fare una farm infinita di colorante giallo In due modi diversi Innanzitutto è importante dire che camminando questo mob Scia diciamo lancia una scia di fiori nel terreno Che saranno all'80% dei denti di leone Sempre gialli E al 20% dei girasoli Che ci permetteranno di avere due unità di colorante giallo diciamo Questo è un mob che fine a se stesso Questo è tutto quello che c'è effettivamente da dire Se non ragazzi che con le cesoie avremo la possibilità di recuperare un dente di leone Questo è quanto diciamo Non c'è nulla di più da aggiungere riguardo questi mob È molto semplice signori Abbiamo però davanti il mob vote di quest'anno E a mio dire è abbastanza interessante Perché la glow squid è molto carina lo ammetto Il mob bloom Sì cioè da un lato ci sta Però non saprei bene come associarlo e come giustificarlo in minecraft Quello lo ammetto Mentre il nuovo mob L'ice logger Quello lì secondo me è molto interessante Perché si andrebbe ad adattare benissimo nel tema delle montagne Perché sì effettivamente Non so se avete visto il video dove vi ho annunciato Il possibile yeti di minecraft Ma questo yeti ragazzi Come avevo detto aveva la capacità di prendere i blocchi da terra e lanciarli contro di noi In un certo senso questo illager magico non li prenderà Li evocherà in alto facendoli stare sopra la nostra testa Ma la funzione relativamente simile e molto interessante Detto questo signori spero che il video vi sia piaciuto Ho cercato di essere molto breve Nella prossima settimana Anzi durante il corso della settimana stessa Ci hanno detto che verranno pubblicati costantemente video relativi A diciamo questo A queste novità introdotte nel minecon E le andremo a vedere assieme Come vedremo nello specifico Mob per mob di questi qua Che sono stati annunciati per il momento Vi invito a lasciare un bel like Iscrivetevi al canale E commentare Passate anche dalla descrizione Vedete il link al sito della live Al gruppo telegram Al profilo instagram Al sito della multicor Che è la mia community Detto questo signori Da anderni con il tutto Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao